Ringrazio Michela, l'assessore cardinale, perché ha fatto un ottimo lavoro finora e sicuramente il mio lavoro sarà di continuità rispetto a quello che ha fatto lei. È nel segno della continuità che ieri Lucia Monaco ha ufficialmente accettato l'incarico di assessore del comune di Ariano Erpino, così come Michela Cardinale, dimessasi per motivi strettamente familiari alla Monaco, il sindaco Franza ha affidato le deleghe alla pubblica istruzione, all'edilizia scolastica, alla cultura e allo sport. Per Lucia Monaco, insegnante classe 83, è la prima esperienza politica dopo la candidatura nella lista dei 5 Stelle a sostegno di Franza lo scorso anno. Dopo le dimissioni di Michela Cardinale, il nome di Lucia Monaco è stato indicato dai pentastellati e accolto con favore dal sindaco che ieri pomeriggio nel corso del Consiglio Comunale ha ufficializzato la nomina. E' emozionata ma già pronta a mettersi al lavoro la neoassessora che ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordatale. Credo in questa amministrazione, le sue parole, ritrovo una famiglia. Ritrovo una famiglia, ecco, il gruppo è un bel gruppo, l'amministrazione è una valida amministrazione, secondo me continuo a credere in questa amministrazione e quindi potrò continuare a dare il mio supporto, volentieri. Lei si aspettava questo incarico? No, è stata una sorpresa e ringrazio vivamente per la fiducia che mi hanno dato, spero di fare del mio meglio, insomma sicuramente mi impegnerò per dare del mio meglio.